benvenuti o bentornati sul mio canale di warhammer 40.000 io sono nemo e oggi per la rubrica nemo dice cose andiamo a vedere una interessante lista di necron che ha fatto un buon piazzamento a uno degli eventi delle ultime settimane in particolare la lista di cui parlo è questa che vi sto mostrando ve la leggo brevemente tratto nilak il tratto che rende obiettivo sicuro tutte le unità in realtà non solo quello adesso andiamo a vedere nello specifico come personaggi come generali come quartier generale abbiamo a disposizione un catacomb command barge con la staffa voltaica e abbiamo anche end of farion che ci permette di dare l'abilità sia fatta la mia volontà a due unità piuttosto che una abilità che ci dà un più uno a colpire a prescindere dal il tiro per colpire sia in corpo a corpo o da fuoco un tecnomancer con l'immancabile velo dell'oscurità che ci permette di saltare sul campo di battaglia in base alle necessità per andare o a spostare la nostra una delle nostre minacce o diversamente a cercare di prendere degli obiettivi verso le fasi finali del gioco abbiamo anche un file safe overcharged un cripteck arcana che potenzia le unità canoptec come truppe visto il tratto del genere il scusatemi vista la il codice dinastico di nilac ovviamente abbiamo una sola unità di necron warrior visto che non abbiamo una estrema necessità del di avere truppe abbiamo comunque tutte le unità che hanno bene o male obiettivo sicuro immancabile componente di elite composta da 4 3 e 3 scorpec destroyer più un plasma cita i scorpec destroyer nonostante il cambio del metagame risultano essere per forza di cose una delle scelte migliori in termini di corpo a corpo in termini di aggressività nella fase d'assalto per il codex necron nei fast attack che sono anche la scelta specifica fatta per comporre la lista con il distaccamento arcs of women abbiamo 3 e 3 sciami di scarabèi 3 e 3 spettri per aumentare un po la fase di corpo a corpo per andare a sopperire al controllo campo insieme ai scorpec 3 e 3 trombon blade con il particle beamer ovviamente paghiamo l'arma meno costosa possibile visto che questa unità devono semplicemente portare a termine le missioni secondarie specifiche dei necron come supporti pesanti abbiamo due doomsday arc che hanno la duplice valenza di arma pesante non troppo efficace da questo punto di vista ma su uno scafo da 14 ferite se non se non erro abbiamo anche una ventina di colpi antifanteria per ogni arca decisamente impagabili visto che abbiamo una sola unità di necron warrior sono quelli che tendenzialmente fanno quel tipo di danno all'interno di niste necron una squadra di locust destroyer e a mio modo di vedere in questo momento è decisamente migliore rispetto al chapter nefilim ma questa è una mia considerazione personale questa è la configurazione diciamo classica di questo tipo di unità 6 destroyer normali più un pesanti oltretutto in aggiunta abbiamo anche un possente monolito con 4 death ray per aumentare il danno pesante a disposizione della lista ovviamente il monolito come chi gioca necron saprà benissimo ha delle pecche importanti diversamente contro eserciti specifici potrebbe risultare essere decisamente un problema perché comunque ha un'alta resistenza un buon numero di ferite ha la possibilità comunque di poter entrare dalle riserve in attacco in profondità con una regola specifica quando parlo di attacco in profondità fondamentalmente sto sempre parlando delle regole native dei pezzi che ci permettono di metterli nelle riserve ok quindi non dai bordi ma può entrare semplicemente dove vuole a più di 9 dalle unità nemiche a chiudere tutto c'è un ex mark destroyer il cecchino multibraccia di recente uscita del codex necron con su una reliquia il gauntet of the conflagrator una reliquia pistola che possiamo anche andare a vedere qui sulla nostra fida uapedia che cosa fa questa reliquia e la troviamo qui giù questa reliquia è un un'arma pistola e colpisce automaticamente il bersaglio invece di ferire tiriamo un d6 per ogni modello all'interno dell'unità con un 6 naturale facciamo una ferita mortale e la sequenza di attacco si interrompe perché è buona questa reliquia su questo modello perché anche le altre armi del dell'ex mark destroyer sono semplicemente delle pistole quindi non dobbiamo rinunciare all'altro fuoco specifico ma possiamo utilizzare questa in aggiunta alle sue normali pistole oltretutto l'abilità di poter essere messo in riserva di entrare in concomitanza con le riserve del nemico e quindi una cosa tatticamente vantaggiosa in base al tipo di nemico stiamo affrontando e la possibilità non da poco di fare tiro di reazione al duo più lo rendono chiaramente un pezzo decisamente interessante in termini di gioco aumenta di molto il nostro controllo su quello che il nemico può fare con le riserve detto questo la lista è comunque una lista che ha un controllo campo relativo nonostante abbiamo su tutti obiettivi sicuro grazie al codice dinastico nilac che andiamo anche a vedere perché chiaramente non è solo quella la diciamo la bontà del del codice ma abbiamo anche che se ci troviamo completamente all'interno della nostra zona di schieramento tutti gli attacchi che riceviamo sulle nostre unità ignorano il vp-1 in buona sostanza quando il protocollo del guardiano eterno è attivo possiamo scegliere entrambi le direttive di per sé il protocollo del guardiano eterno non è che sia poi questo fulmine di guerra andiamo a vedere anche questa cosa praticamente questo protocollo ci dice che possiamo tenere duro all stidi o set to defend prepararci a difenderci anche se non ci troviamo all'interno di robine e non solo con la fanteria ovviamente non dobbiamo trovarci in nella distanza di ingaggio come per le condizioni normali però diciamo che è un bonus non da poco visto che viene applicato a tutti i modelli veicoli compresi l'altra parte della direttiva ci dice che se l'unità nel turno nel battle round scusatemi è stata ferma non ha fatto normal move advance o fallback quindi non ha mosso normalmente non avanzato non è ripiegata ha anche i benefici della cover leggera questa anche non è male fra l'altro la cosa funziona all'interno del battle round quindi se andiamo secondi di turno praticamente abbiamo sempre questo tipo di bonus ok chiaramente non è che siamo obbligati a scegliere questo protocollo quello disponibile sempre tutti i turni visto che con il data slate attuale è possibile scegliere uno dei sei e applicarlo sempre comunque durante la battaglia però diciamo che abbiamo questo bonus aggiuntivo se ci troviamo a poter sfruttare le direttive di questo protocollo sia che sia quello sempre in uso sia che sia che sia fra quelli scelti all'interno della sequenza dei turni poi ovviamente qui non vi sto a spiegare come funzionano perché andiamo a parlare nello specifico di come funzionano i necron torniamo sulla lista la lista come vi dicevo ha un buon output di danni ha unità anche abbastanza sui generis il monolito è vero che adesso si sta iniziando a giocare ma chiaramente presenta alcune difficoltà nel suo utilizzo tant'è che al posto del monolito io banalmente ci vedrei un'altra di locust destroyer ma anche qui dipende dalla necessità del fuoco pesante che ci può servire visto che il monolito a quel punto può sia sparare con la frusta fotonica che con questi quattro raggi della morte in modo da fare danni pesanti veramente consistenti interessante l'ex mark destroyer la componente leggera è quella che in realtà va a decidere la partita soprattutto in combinazione con con le missioni specifiche del codex enegron che sono state revorcate una in particolare ha perso abbastanza di di appeal di forza le altre due tutto sommato non sono malissimo e chiaramente sto parlando delle missioni i tesori degli eoni e antichi macchinari purgeo de vermin ha perso moltissimo perché il nemico non deve trovarsi completamente all'interno dei quarti del campo di battaglia poi chiaramente andate a vedervi il il video specifico se volete saperne di più sulle missioni secondarie specifiche dei negron la lista è chiaramente studiata per poter sfruttare sia antica ma antichi macchinari che tesori degli eoni con una certa con una certa efficacia e qui apro una piccola parentesi in chiusura dell'analisi della lista nonostante abbiamo questo tratto decisamente forte la lista di per sé mette in campo proprio in termini numerici di pezzi tutte unità abbastanza contenute in in termini di 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 modelli ok questo è buono perché avere obiettivo sicuro fondamentalmente su tutto è fortissimo è pur vero che laddove il nostro nemico magari ha un obiettivo sicuro più forte del nostro di sicuro non riusciamo a sopperire con solo una unità di guerrieri negron questa è una mia impressione perché giocando contro i negron ho sempre avuto l'impressione che comunque anche se uno va a forzare questo tipo di logica laddove chiaramente obiettivo sicuro su tutte le unità penso uno dei pochi eserci che possa averlo in maniera così estesa quindi indubbiamente una cosa buona a mio modo di vedere probabilmente non è l'unico modo di listare in maniera efficiente l'esercito abbiamo anche altri codici dinastici abbastanza interessanti l'unica cosa che di questa di questa lista capisco benissimo è invece la mancanza di iktan iktan è vero che aggiungono una componente di danno pesante veramente forte molto molto forte però una serie di regole abbastanza comuni neanche troppo però abbastanza diffuse all'interno dei codex un po' più recenti può andare a scavalcare la loro diciamo abilità principe di poter ricevere solo tre danni all'interno di ogni fase di gioco tale per cui su uno scontro d'attrito magari andiamo a subire più danni di quello che normalmente non subiremo e quindi questo diventa un grosso problema a quel punto il giocatore qui in particolare ha deciso semplicemente di non mettere l'oktan a mio modo di vedere è un ragionamento ben condivisibile detto questo vi ringrazio di avermi seguito per questo video spero che questa lista vi piaccia se la provate ovviamente commentate qui sotto o nei video successivi su come vi siete trovati con questo tipo di lista se vi convince questo codice dinastico se vi convince questo insieme di unità a me piace particolarmente fatta eccezione forse per i bright ed eventualmente per il monolito ma qui si va a gusti personali chiaramente interessante scelta di stratagemmi prepartita sia per quanto riguarda le reliquie che per quanto riguarda il hand of the fern così da poter potenziare due unità banalmente questo catacomb ci va a fare le veci del onnipresente resiliente onnipresente perlomeno fino al chapter nefilim adesso vedremo come si stabilizzerà il metagame del gioco vi ringrazio per le iscrizioni vi ringrazio per i commenti vi ringrazio se vi è piaciuto il video vi ricordo di spolliciare qui sotto e attivare la campanellina degli avvisi per rimanere aggiornati vi saluto a tutti quanti ci vediamo al prossimo video ciao ciao a tutti